Tagliatelle di batata al pesto mediterraneo Un piatto raw, vegan e gluten free che grazie a questo ortaggio ricco di antiossidanti ha moltissime componenti nutritive Prendiamo due batate e sbucciamole con uno sbucciapatate Con lo stesso strumento creiamo delle tagliatelle e lasciamole cadere in una ciotola A concludere condiamole con sale, pepe, olio e il succo di mezzo limone Mescoliamo e lasciamo riposare Per il pesto tritiamo 100 g di noci, 100 di pomodori secchi, 20 di capperi e 20 di olive targiasche Aggiungiamo poi 250 g di fagioli cannellini lessati, olio, un cucchiaio di salsa di soia senza glutine, un cucchiaio di tahin, un po' di zenzero e frullando, ecco qua Il nostro velocissimo e gustosissimo pesto il cui eccesso potrà essere gustato come un mousse mediterraneo Tagliatelle, pesto e in aggiunta semi di zucca e paprika dolce Un piatto completo, proteico e golosissimo Totalmente vegetale e senza glutine Oro vorrebbe tanto assaggiarlo Ma è finito troppo in fretta Se vi è piaciuta la ricetta salvatela e iscrivetevi al nostro canale YouTube Il link è in bio